Entrato in funzione il primo luglio il certificato digitale COVID. Si tratta del tanto atteso certificato digitale o cartaccio che dovrebbe permetterci questa estate di muoverci liberamente tra i paesi europei e andare finalmente in vacanza. Certificato che verrà utilizzato molto probabilmente anche per partecipare a eventi pubblici. Un debutto non esattamente col botto, visto che in molti aeroporti europei si sono create lunghe file e non sempre questo certificato è stato riconosciuto. Ricordiamo come funziona questo certificato. Sostanzialmente dovrebbe attestare tramite un QR code o una stampa, insomma un certificato cartaccio, l'avvenuta vaccinazione, l'esito negativo ad un test, ad un tampone, oppure l'avvenuta guarigione dal COVID. Ecco questo per esempio è il mio, certifica la prima dose di vaccino ricevuta in attesa ovviamente della seconda. L'accordo raggiunto a Bruxelles prevedeva che chi è in possesso di questo certificato, di uno dei tre, quindi o di avvenuta guarigione o di vaccinazione o di test negativo, possa viaggiare tranquillamente salendo sull'aereo e andando dove vuole. In questi giorni si sono create file di disguidi vari. L'accordo a Bruxelles deve essere poi ovviamente implementato, attuato dai governi nazionali e dalle compagnie aeree, che molto spesso purtroppo hanno aspettato l'ultimo minuto. La Germania ha deciso di vietare unilateralmente i viaggi di chi proviene dal Portogallo, un paese dove a quanto pare la variante delta del COVID si sta diffondendo molto più velocemente che altrove, all'interno del proprio paese, ad eccezione ovviamente dei cittadini tedeschi o residenti in Germania. Insomma ha deciso di tirare quel freno di emergenza che i governi nazionali hanno insistito affinché fosse contemplato all'interno del regolamento di questo nuovo certificato. Ed era proprio il motivo per cui, ad esempio, il Parlamento europeo non era felice di questo accordo, perché voleva proprio impedire che un paese potesse unilateralmente chiudere le frontiere in generale o nei confronti dei cittadini providenti da un determinato paese. Ma i governi nazionali hanno insistito affinché questo freno di emergenza fosse inserito. E nel caso della Germania in realtà è un'interpretazione un po' ampia, diciamo, perché in teoria quello che un paese potrebbe fare è solamente reintrodurre i controlli maggiori, esigere più test ed imporre la quarantena a chi entra nel proprio territorio, ma non chiudere le frontiere totalmente. Questo perlomeno è quello che la Commissione ha detto subito a Berlino, ma la versione di Berlino, come di altri paesi a dire il vero, è diversa. Ovviamente alla fine la colpa sarà sempre dell'Unione europea, che non è stata capace di gestire, che ha creato confusione, che ha creato uno strumento inutile, eccetera, eccetera. Eppure le linee guida dette della Commissione europea sul certificato Covid digitale sono chiarissime. Chi ha questo certificato può entrare in un paese. Alla peggio gli si può chiedere di fare altri tamponi, oppure di fare una quarantena, ma non gli si può impedire di entrare in un paese. Nel caso della Germania, quindi ricordiamolo, la decisione è di Berlino, non di Bruxelles, di chiudere i viaggi per chi arriva dal Portogallo. Per quanto riguarda le file createci invece nei primi giorni di entrate in vigore di questo certificato, un po' ce lo si poteva attendere. È comunque uno strumento nuovo che ha bisogno di qualche giorno di assistamento per entrare nella prassi europea. Ma anche lì forse le compagniere potevano pensarci prima, prepararsi prima alla sua entrata in vigore. Ad ogni modo il certificato digitale Covid sembra proprio essere uno strumento al quale dovremmo abituarci nei prossimi mesi, in quanto tra una variante e l'altra purtroppo sembra che non ci sbarazzeremo presto di questo Covid. E il certificato Covid avrà molto spesso richiesto in occasioni differenti, abbiamo detto le discoteche, ma molto probabilmente anche altri eventi pubblici, non solo i trasporti. Nel frattempo scaricatelo, provatelo e buone vacanze! Grazie a tutti!